Tanta tantissima guagna per tutti ragazzi Sono sempre io Gizetaroxas sempre su guagna E oggi sono qui con un altro video Questa volta su come salire di livello velocemente su Call of Duty Black Ops 2 Più che altro si tratta di vari consigli coestratto diciamo da video e da giocate Al momento io non sono al livello molto alto Sono al secondo prestigio livello 50 circa Ma il mio account è stato completamente azzerato a causa di un bug quando ero al secondo prestigio Che nella fine sarei circa al quinto prestigio adesso Ma iniziamo subito Allora il primo consiglio che vi do è di scegliere la modalità di gioco che più preferite E che vi garantisca più punti possibile In questa partita stavo giocando a dominio Ma devo dire che quella a cui gioco più spesso è uccisione confermata Questo perché un'uccisione vale 50 punti E ogni piastrina confermata ne vale 100 Mentre ogni piastrina negata ne vale 25 Oltre a garantire più punti esperienza diciamo di una normale uccisione nella maggior parte delle modalità di gioco Quindi 100 al limite 125 per esempio se siamo su una bandiera Vi permette di chiamare a mio parere le serie di punti molto più velocemente Perché al posto che fare per esempio per quanto riguarda l'UAV 3-4 uccisioni ne basteranno 2 o 3 Un altro consiglio che vi posso dare è di alternare moltissimo tutti gli accessori e le specialità che avete nella vostra classe Per questo vi consiglio di utilizzare delle wildcard Per esempio nella maggior parte delle mie classi io utilizzo due wildcard Una per avere una seconda specialità in una categoria E un'altra per avere tre accessori su un'arma Questo porta a vari vantaggi Allora usare per esempio due specialità permette di completare contemporaneamente le sfide Sia per la prima specialità che per la seconda Facciamo un esempio Fantasma è inflessibile Allo stesso tempo utilizzandole sbloccheremo la sfida per la wildcard specialità avidità 1 E questo ci garantirà altri punti Invece per quanto riguarda la wildcard dei tre accessori Ci permette di completare le sfide per i titoli di ben tre accessori Che garantiscono se non sbaglio di circa 5.000 punti ciascuno Più quello della wildcard E questo può essere davvero un ottimo modo per guadagnare esperienza A mio parere Altri consigli per serie di livello sono quelli di utilizzare e di scaricare l'applicazione Call of Duty Elite Sia su dispositivi Apple che Android Allora questa applicazione a mio parere è molto utile Perché oltre a tenere conto delle vostre partite recenti Ti permette di valutare la percentuale che ci rimane per completare una sfida Infatti uno dei modi migliori per serie di livello per l'appunto è completare queste sfide E avendo a disposizione dei dati che ci permettono di sapere quali sfide sono più prossime ad essere completate Può essere veramente utile Queste sono alcune delle immagini provenienti dall'applicazione Che ora vedete a schermo Un altro consiglio è quello di utilizzare delle serie specifiche Per esempio usare serie basse come per esempio l'UAV e il contraattacco UAV Ci permette di ottenere punti facilmente e di chiamarle in continuazione Infatti come ben saprete sono 10 punti per ogni assist UAV e 10 punti per ogni assist contraattacco UAV Quindi una buona tecnica potrebbe essere utilizzare un UAV e un contraattacco UAV Per fare dei punti generali e per aiutare la vostra squadra a vincere Che è un altro fattore molto importante Quindi giocate per gli obiettivi, prendete le piastrine e catturate le bandiere E diciamo questo potrebbe equivalere a una leggera diminuzione del rate uccisioni morti Ma alla fine non è così importante In Black Ops 2 sono più importanti le vittorie sconfitte E stavo parlando appunto di serie di punti E come terza consigliavo una serie di punti invece in grado di procurare uccisioni Come per esempio un elicottero stealth che non è troppo alto O un attacco fulminio Oppure in extremis, magari se non avete bisogno di particolari uccisioni Un visato orbitale che vi permette di ottenere uccisioni con le armi veramente facilmente Infatti nonostante durante la partita noi riceviamo solo 25 punti per un'uccisione Per esempio con l'elicottero stealth A fine partita se andate a controllare nel rapporto per ogni uccisione equivarranno 100 punti Quindi riuscire a utilizzare delle scorestreak che aumentino le proprie probabilità di fare uccisioni E i propri punti allo stesso tempo come finale una scorestreak che ci garantisca molte uccisioni Ci permette di guadagnare davvero davvero tanti punti Un ultimo consiglio che vi posso dare anche se è piuttosto ovvio È di cercare di fare più colpi alla testa con le armi possibili So che è una cosa piuttosto difficile in particolare se non si ha una grandissima connessione Ecco perché non ho ancora tutte le armi diamante Scusate Ma anche quelli vi ricompenseranno con delle nuove mimetiche E ovviamente con altrettanti punti 2500 se non sbaglio fino alla crypt Ecco comunque arriviamo fino a 5000 E poi l'oro 5000 E prestigiando inoltre le armi che vi garantiscono ogni volta più punti esperienza per ogni accessorio sbloccato Arriveremo a sbloccare un totale di 15000 punti Solo per aver completato le mimetiche e i prestigi delle armi Quindi il video di oggi è finito Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui Ringrazio Wagna per avermi dato questa possibilità E noi ci vediamo al prossimo video Io vi lascio con la fine di questo gameplay E tanta Wagna per tutti Bella Ciao 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 Ciao